Inspirazioni, archivi, scelte, patenze, fittings, fabbriche, botte, manufatture, simstresses. Vi mostro l'A2Z di Max Mara, con l'icona Laura Luzardi, che conosce Max Mara dal cuore. Si, è subtile. Se tu non lo racconti, non capisci che è una M. E questo che bello. Come crezzi un'A2Z di Max Mara? Siamo in Italia, non in una grande città, ma in Reggio Emilia, a la base di Max Mara. Since the 1950s, le Coati Max Mara sono iconi dell'Italia, riconosciati all'interno del mondo. Max Mara Atelier è la linea più fina di Max Mara, conosce per le loro esperimentazioni sartoriale. Poi, ti ricevi l'inspiration dell'immense, intense, sublime Max Mara Archive. Qui entriamo nell'archivio, nell'archivio Max Mara. Mi metto prima Laura Luzardi nel 1995. E a quel momento, aveva già lavorato con Max Mara per 30 anni. Quando uno dice qualcosa, dice che colorai Max Mara? Cammello. E qui è tutti i cappotti cammello di tanti anni diversi, che vanno dall'inizio fino ai giorni nostri. Laura Luzardi è coordinatore del gruppo Max Mara. 60 anni di Max Mara. E qui conosce ogni parte della casa. Con l'arte. Cosa. 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 La seconda è, perché la seconda è verde, quindi la seconda è Max Mara, la seconda è Max Mara, ma è abbastanza subtile. I student samples di Mara Mutti Fashion School sono inizialmente una fuente di inspirazione per la stigione rosa di coloro. Quando abbiamo visitato l'archivazione, abbiamo visto che c'è troppo rosa di rosa. E mi piace molto il mixaggio di un punto a la mano e un punto a la macchina. E' la seconda è. La fabrica è corta per la toile. Rottonella, la première dell'atelier, crea i primi pattern della cotta. L'abbia lavorare a Max Mara sempre. Laura Luzardi prena attenzione ai dettagli più finissimi. Dopo ore di lavoro, fitings su un modello. Si. I bottoni dell'archivazione erano inspiranti e sono riusciti. Tutti i dettagli assoluti, che è il Max Mara di Hennè. Qui hai. La clessidra, che è questa. Caban. Monsieur. Wow, è davvero bello. I piedi sono incredibili. I piedi sono davvero buoni. Evasi. Un bel cappotto. Si. C'è buono le touche di rouge. Buono. Buono. Questo sono le trenche di verde. Redingote. Sempre. Esame. Le suco a. Le manteo cardigan. È un double cachemire. E l'as mentally un kaki. C'è una cara militaire, masa con un jacquara di flelle. Allora, sa se la chemise di vera. Sa il parca di vera. Per il cappotto sono sei controlli di linea. C'è questo alla sala taglio, poi c'è il controllo del davanti, controllo delle maniche, controllo dei colli, controllo intermedio, controllo rifiniture, poi c'è il controllo finale, che dove si ricontrolla tutto il capo, internamente ed esternamente, tutti i materiali. Laura Luzardi e Abdul Koroma sono beaming with pride around the new Max Mara creations. Per me la fabbrica è la cosa più importante, perché vuol dire la qualità del prodotto anche. Il cappotto senza tempo è perfetto. Grazie. 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 Grazie.